Sono qui intanto per l'inaugurazione del mio progetto che ha durato quattro anni di scatti. Questo progetto appunto Mirella è una storia che parla di Alzheimer ma non solo. Io mi sono ritrovato semplicemente a documentare quanto vedevo e ne è uscito fuori comunque un lavoro che più che documentare restituisce delle sensazioni, delle emozioni e delle riflessioni. Quindi è sicuramente un lavoro poco descrittivo ma molto emozionale. Emozioni negative, delle difficoltà restituite poi con questo linguaggio che è quello che insomma so fare, che è il linguaggio della fotografia. Quindi ecco sicuramente sì, le emozioni, mi viene in mente di dirti emozioni. Tu hai seguito una coppia, hai fotografato il percorso di una coppia e soprattutto dell'assistenza di una donna nei confronti di un marito che progressivamente peggiorava per la malattia dell'Alzheimer. Questo lavoro, questo lavoro fotografico che vediamo qui oggi alla Galleria Scroppo ti ha anche permesso di vincere il World Press Photo. Quanto è stato importante questo premio? Che emozioni anche in questo caso ti ha dato? Beh sì, diciamo essendo uno dei premi, anzi il premio di riferimento del fotogiornalismo, ottenerlo è sicuramente insomma una tappa importante a livello professionale. Ma come dico spesso la cosa più importante di questo premio è stato quello che mi ha dato la possibilità di far girare questo lavoro e quindi di parlare di Alzheimer a tutto il mondo. Poter fare in modo che un tuo progetto, una tua idea venga vista e venga usufruita da un pubblico quanto più vasto possibile è una delle più grandi soddisfazioni che un fotografo può aspirare. È stato in mostra a Madrid, a Barcellona, a Valencia, a Siviglia, è stato in mostra a Brooklyn un anno fa, a Londra, adesso qui a Torre Pellice. Quindi chiudiamo con il tuo rapporto con Torre Pellice, la Val Pellice, in questo caso la Diaconia Valdese. Come mai sei stato contattato? È stato visto un articolo su un quotidiano che appunto parlava di questo lavoro, parlava di questa mostra e ha suscitato curiosità e sono stato contattato da Joe e Carlo Alberto. E niente, interessati assolutamente di questo lavoro, mi hanno chiesto se avevo intenzione e voglia di portarlo qua a Torre Pellice e assolutamente ho accettato perché intanto è un lavoro che, ti ripeto, deve essere visto da quante più persone possibili perché tratta un tema troppo importante. E poi c'era anche il piacere di venire qua in una valle veramente splendida, un'accoglienza incredibile, assolutamente mi ha colpito moltissimo. Oggi poi ho avuto occasione anche di girare un po' e assolutamente delle sensazioni molto positive, di tranquillità, di pace, molto bello, molto bello. Grazie a tutti.